Guarda, l'ho letta ora la notizia, l'ho letta ora, vi metto proprio in postazione, oh ecco fatto, vi faccio anche venire un po' di mal di stomaco perché, oh lì, finalmente, ci si è fatta, anche qui, ci si è fatta ragazzi, arrivi secondo colpo di questo calciomercato della Fiorentina, anche se si deve contare anche Sabiri, però Sabiri lo si sapeva già da metà anno dell'anno scorso. Artur Melo, ragazzi, sarà un nuovo giocatore della Fiorentina, le cifre e più o meno le modalità le si sapevano già da circa una decina di giorni, insomma, da quando era venuto fuori le prime idee e i primi, diciamo, contatti tra le due società, che sarà un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20. Infatti, ovviamente, visto che questo ragazzo piglia 6 milioni l'anno, le due società si spartiranno il 50% dello stipendio del giocatore, quindi la Fiorentina pagherà 3 milioni l'anno e la Juventus ne pagherà altri 3. Conviene a entrambi perché la Juventus ovviamente non può più permettersi di mantenere un giocatore che non gli serve essenzialmente, infatti sta cercando di fare cassa vendendo chiunque, Vlaovic da una parte, Chiesa da un'altra, McKennie e via, e cazzo e mazzi. Quindi, essenzialmente, invece di pagarlo 6 milioni l'anno, lo pagano solo 3, però intanto gioca da noi e noi poi, tra un tot di tempo, perché ancora non ho capito esattamente se due anni o una roba del genere, vedremo se riscattarlo oppure rimandarlo indietro. Allora ragazzi, con calma, è un colpo, come vi ho detto anche l'altra volta nel video che feci sul calciomercato, che due anni fa sarebbe stato utopia pensare che un giocatore del genere sarebbe potuto finire alla Fiorentina. Una roba da carriera di FIFA, mi dissi, e non ci va tanto lontano. Ovviamente il giocatore ha fatto una discesa di prestazioni, di carriera, anche data dagli infortuni, sfortuna insomma, però comunque bisogna contare anche quelli, mostruose in questi ultimi due anni, perché la Juventus fece male, preso dal Barcellona con quello scambio famoso con Pjanic, pensando diciamo di riuscire a fare un qualcosa, invece niente, pagato appunto uno sfacello, e poi dopo un anno essenzialmente mandato in prestito a Liverpool perché pesava e basta, e avevano bisogno di farlo giocare, e a Torino non giocava. A Liverpool, se non sbaglio, ha fatto una presenza a pochi minuti, poi si fece male e non giocò mai più, un anno in panchina essenzialmente, sia o dal fisioterapista, o in ospedale, o in panchina, e poi noi si prova a rilanciarlo. Quindi è un giocatore che, se si dovesse riprendere a livello fisico, è una certezza, non è una scommessa. Ma ad oggi è una scommessa. È una scommessa, ragazzi. È una scommessa. Era come i gollini. È una scommessa. Il giocatore che aveva dato tanto, ne conosciamo le caratteristiche, le qualità, tutto, che però ha avuto diversi problemi negli ultimi anni. Quindi, io in generale sono contento, perché per me chiunque arriva a Firenze, che potrebbe, mettiamola così, potrebbe farci fare il salto di qualità in qualche reparto, in base a dove arriva, sono contento a prescindere. Però, vi ripeto, andiamoci un attimo con i piedi di piumbo, prima di, capito, tirar fuori chissà che cosa, oddio, si è preso il fenomeno di mondo. Io spero che diventi, appunto, come ho detto un video fa, due video fa, il nuovo giocatore, centrocampista più forte di Obono degli ultimi 20-30 anni, che proprio ci si ricorderà, gli si faranno status, si scriveranno libri, si racconterà a nostri nipoti, Artur Melo, ragazzi, questo fenomeno mondiale. Però, al momento, rimane un giocatore che ha due anni, essenzialmente, che non gioca e che ha ancora qualche problema fisico. Quindi, al momento, tanto l'hai pagato due milioni, quanto a Sabiri. Quindi, a noi, tu gli dai tre milioni l'anno, ma tu gli dai anche a Jovic, quindi per dire, l'hai pagato due milioni. Quindi, per ora, ne ha pagato niente. Praticamente, Rasmus se ne è andato via, i Brombi ti ha dato tre milioni, con due dei tre te la pagato Artur. E poi, tra un po', si vedrà. In base, ovviamente, a come gioca, come performa, perché? Essenzialmente c'è anche da capire dove lo potrebbe far giocare Italiano, perché è un giocatore che potrebbe giocare sia nella mediana, sia come in mezzala. In base anche a come gioca Italiano, come deciderà Italiano di giocare l'anno prossimo, perché se Italiano vorrà giocare con un 4-2-3-1, per me, ovviamente, andrà a fare il mediano. Col cazzo va a fare il trequartista. Se giocherà col 4-3-3, invece, dove c'è il mediano e le due mezzale, lì, insomma, si può decidere in base anche a se Amrabat va via, ora appunto è uscito fuori, Dea Napoli, ecco sì, insomma, poi magari ve ne parlerò per bene nei prossimi giorni, quando uscirà anche qualche altra notizia in più. Quindi, se non si prenderà magari un sostituto per Amrabat, lui potrebbe essere il regista del centrocampo a fare la mediana. Però, capite anche bene che non ha le stesse caratteristiche di Amrabat. Assomiglia di più a Torreira, se vogliamo. Però, però, ok? Non ha le stesse capacità di corsa, non ha lo stesso fiato, ha avuto tanti problemi fisici, quindi al momento bisogna andare con calma. Se hai preso un possibile crack, un possibile fenomeno, come l'ho preso il Barcellona, come l'ha preso la Juventus. Come l'ho preso la Juventus. Quindi, io sono contento. Non prendete, ok, come dire, no, non sei mai contento, no, lo di buono sei preso. Io sono contento, sono contento. Io spero che con lui, anche con questi mesi, perché se non sbaglio il 20 di agosto, se non sbaglio la prima che si giocherà contro il Genoa, in questo mese anzi, perché manca un mese, di preparazione italiano, la squadra, e anche lui, abbiano modo di entrare bene e amalgamarsi bene, visto che l'italiano ha bisogno dei suoi tempi per far entrare la gente, per fargli imparare bene il suo gioco. E spero che diventi il titolare per i prossimi, appunto, dieci anni, fino a che non finisce la carriera, perché ha 25-26 anni e ancora è giovanissimo. Però con calma. Sono contento, comunque. Fatemi sapere la vostra sotto in mente, ragazzi. Era un giocatore che doveva arrivare, perché ormai tanto non serviva più a niente, a nessuno, né Liverpool l'ha mandato via per disperare, o la Juventus non lo vuole più, praticamente, una roba del genere. Quindi, a noi va bene. È un'occasione. Come lo è stata un'occasione Parisi, come lo è stata un'occasione Sabiri, è un'occasione di mercato. Perché a quelle cifre un giocatore del genere, perché non riapita. Quindi è un'occasione. Però è anche un giocatore che possibilmente ci poteva anche servire. Quindi niente, ragazzi. Sempre Forza Viola e fatemi sapere la vostra su questo nuovo acquisto della Fiorentina, ufficializzato praticamente pochi minuti fa. Ciao, ragazzi.